Un setup per il vostro Mac per iniziare a lavorare nel mondo della creazione degli NFT e del webtrain in generale. Lo vediamo in questo video. Nel browser del nostro Mac digitiamo Homebrew. Clicchiamo su questo link che comunque io vi lascio in descrizione e vediamo qui sotto questo comando. Clicchiamo il pulsante per copiarlo e successivamente apriamo il terminale. Una volta aperto incolliamo il comando e diamo invio. Qui ci chiederà la password del nostro Mac. Una volta inserita date invio e poi ci chiederà di digitare Return o Enter per continuare. Adesso tramite brew potremo installare Node.js ma prima vediamo le versioni che ci sono disponibili. Infatti andando nel loro sito web vediamo come la versione consigliata in questo caso è la 16.16.0 mentre la corrente è la 18.7.0. Io preferisco installare la versione consigliata perché è quella supportata più a lungo e che sicuramente avrà anche meno bug. Una volta verificate le versioni torniamo nel terminale e digitiamo brew install node.16. Lanciamo il comando e in questo caso a me sta dicendo che per reinstallare Node.js dovrò digitare brew reinstall node.16. Questo semplicemente perché sul mio pc è già installato Node.js. Nel vostro caso invece installerà tutto quello che gli serve e quando avrà finito dovrete digitare il comando brew link node.16. Ed anche in questo caso visto che il mio è già linkato mi sta dicendo che per fare il relink dovrò lanciare quell'altro comando ma a voi queste cose non appariranno. Quando avrete finito per verificare le versioni digitate node-version, date invio e verificate la versione di Node.js che è stata installata. In questo caso vedete come nel mio pc c'è la 16.16.0. Un altro comando che potete lanciare è l'npm-version. In questo caso vediamo che la versione sul mio pc è la 8.11.0. Come nel video in cui spiego come fare un setup simile su windows ci servirà installare yarn. Per installarlo andate sempre nel link che vi lascio qui sotto in descrizione e verificate se la vostra versione di Node.js è maggiore uguale alla 16.10 oppure se è minore a questa 16.10. In questo caso come possiamo vedere la mia è la 16.16.0 quindi per installare yarn mi basterà digitare corpac enable. La digito nel terminale e do invio. Una volta fatto basterà digitare nel terminale il comando yarn-version per verificare la versione di yarn installata sul nostro sistema. In questo caso la 1.22.15. Una volta fatto ciò digitate il comando npm-i-g truffle. Date invio ed aspettate che installi tutte le dependencies necessarie. Quando avrà finito sarete in grado di lanciare il comando truffle-dashboard che aprirà questa pagina nel vostro browser predefinito. Come vedete in questa pagina c'è questo grande pulsante con scritto Metamask e voi lo potete cliccare per collegarvi al vostro Metamask. E come vedete una volta connessi ci chiederà di confermare la rete alla quale siamo connessi. Infatti vediamo come si connette automaticamente all'Ethereum Mainnet perché io sul mio Metamask sono connesso alla rete principale di Ethereum. Mentre se su Metamask passaste ad un'altra rete quindi da Metamask vi collegaste magari alla Polygon Mainnet qui apparirebbe Polygon Mainnet. E come vedete qui c'è scritto incoming requests. Questo perché truffle-dashboard è un tool che permette agli sviluppatori blockchain di fare effettivamente molti passaggi che è inutile che io stia qui a spiegare. Semplicemente quando verranno fatte delle transazioni in blockchain tramite Visual Studio Code qui apparirà di confermare la transazione che poi verrà rigirata a Metamask dato che sono connessi. Ed ora l'ultima cosa che vi serve è installare Visual Studio Code. Cliccate su questo pulsante sul Mac e seguite la procedura di installazione. Ovviamente io non lo faccio perché l'ho già installato. La cosa importante però è che una volta installato Visual Studio Code voi appunto lo apriate e scendendo qui dove c'è questa icona voi digitiate Solidity. Questo per installare l'estensione che permetterà a Visual Studio Code di leggere Solidity al meglio. Ovviamente voi qui avrete un pulsante install come qui sotto tutte le altre estensioni però io non ce l'ho. Qui mi dà semplicemente uninstall solamente perché l'ho già installato. E prima di concludere questo video una cosa che voglio farvi vedere è come terminare un processo nel terminale. Infatti come vedete adesso il truffle dashboard è attivo ma se io andassi qui nel terminale e digitassi ctrl c vediamo come il server non è più in esecuzione e se tornassi qui ed aggiornassi la pagina mi apparirebbe impossibile raggiungere il sito. Questo semplicemente perché abbiamo terminato con ctrl c il processo che stava facendo girare questa pagina in localhost. Ovviamente se volessimo nuovamente mettere il server online basterà digitare nuovamente truffle dashboard ed aspettare che ci apra una nuova pagina nel terminale. Ovviamente se tornassimo in questa e aggiornassimo la pagina anche qui apparirebbe nuovamente localhost. E adesso visto che ho finito io digito ctrl c per terminare tutto e clear per pulire tutto il terminale. Ed ora il tuo Mac è pronto per iniziare a realizzare i primi progetti Web3. Lasciami subito un like se questo video ti è stato utile ed iscriviti al canale attivando la campanellina per non perderti i prossimi video sempre inerenti a questo mondo. Io ti saluto e alla prossima ciao! Grazie a tutti!